15 minuti di tonificazione della zona addominale, un workout completo per rinforzare tutta la zona centrale del corpo. Buon allenamento! Iniziamo. Addominali in tre tempi. Solleva leggermente le spalle. Contrai l'addome. Fuori l'aria quando sali. Vai. Tre tempi. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Mantieni il ritmo. Dieci secondi. Fuori l'aria quando sali. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera e resta in posizione. Respira. Cinque, quattro, tre, due, uno. Gomito, ginocchio. Vai. Sali e porta il gomito verso il ginocchio. Il movimento è continuo. Fallo con ritmo e precisione. Incrocia. Incrocia. Vai. Fuori l'aria quando porti il gomito al ginocchio. Butta fuori l'aria. Butta fuori l'aria. Vai. Consecutivo. Non ti fermare. Mantieni. Mantieni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok. Recupera e resta sempre in posizione. Respira. Respira. Tre, due, uno. Cambia. Trenta secondi di crunch classico. Addome contratto e solleva leggermente le spalle. Butta fuori l'aria quando crunchi. Vai. Vai. Zona lombare ben aderita a terra. Sali. E butta fuori l'aria. Vai. Vai. Mantieni. Mantieni. 10 secondi. Addome d'acciaio. Andiamo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera. Respira. Cinque, quattro, tre, due, uno. Due, uno. Riparti. Manno al piede opposto. Sono trenta secondi. Vai. Contrai l'addome e vai in chiusura. Fuori l'aria quando sali. Butta fuori l'aria. Schiena bene appoggiata a terra. Tocca le punte. Sali e incrocia. Sali e incrocia. Vai. Vai. Dieci secondi. Non ti fermare. Mantieni il ritmo. Cinque, quattro, tre, due. Uno. Recupera 10 secondi. Respira. Tre, due, uno. Ancora addominali in tre tempi. Vai. Schiena bene appoggiata a terra. E sali. Uno, due, tre. Solleva le spalle. Contrai l'addome. E spingi. Fuori l'aria quando sali. Fuori l'aria. Tre tempi. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Butta fuori l'aria. Vai. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok. Recupera. Riprendi bene il fiato. Resta in posizione. Tre, due, uno. Ok. Spalle sollevate. Braccia parallela a terra. E ginocchi in linea con l'ombelico. Solleva leggermente il bacino. E avvicina le ginocchia al petto. Movimento controllato. Lento. Preciso. Addome sempre contratto. 15 secondi. Aiutati con le braccia. Vai. Chiudi. Apri. Chiudi. Apri. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia. Solleva le spalle. Contrai l'addome. E aumenta la spinta. La zona lombare è bene aderente a terra. Espira durante la salita. Vai. Sali. Contrai. Espira. 15 secondi. Non ti fermare. Mantieni il ritmo. Vai. Sali. Butta fuori l'aria. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera. E resti in posizione. Cinque secondi. Quattro, tre, due, uno. Via. Bicicletta e gomito al ginocchio. 30 secondi. 30 secondi. Contrai l'addome. Non muovere la testa durante il movimento. Vai. Vai. Collo rilassato. Schiena ben aderente a terra. Incrocia. Uno. Incrocia. Due. Vai. Concilia il movimento. Ginocchio gomito. 10 secondi. Mantieni il ritmo. Non rallentare. Cinque, quattro, tre, due, uno. Crunch. Via. 30 secondi. Addome contratto. Solleva leggermente le spalle. Fuori l'aria quando sali. Butta fuori l'aria. Prendi l'aria. Butta fuori. Vai. Vai. Mantieni il ritmo. Continua. Non rallentare. Tieni duro. 10 secondi. Butta fuori l'aria. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera. 10 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Vai. Mano al piede opposto. Contrai l'addome e vai in chiusura. Schiena ben appoggiata a terra. Espira quando chiudi ed espira quando sei a terra. Movimenti precisi. Vai. Incrocia. Tocca la punta. Incrocia. Tocca la punta. Vai. Vai. 10 secondi. Concilia il movimento. Mantieni il ritmo. Non ti fermare. Vai. Vai. Cambio. Spalle e gambe sollevate e muovi il bacino lateralmente. Sono 30 secondi. Le braccia sono sollevate da terra. Respira. Respira. Mantieni il movimento. 10 secondi. Addome in tensione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Recupera e resti in posizione. Respira. Sciogli un attimo. Tre, due, uno. Vai. Ultimo crunch classico. Schiena ben appoggiata a terra. e addome contratto. Sali. Sali. Fuori l'aria quando sali. Prendi aria. Butta fuori. Vai. Crunch. Crunch. Mantieni. Mantieni. 10 secondi. Forza. Resisti. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ora torsione destra e sinistra e ritorno. Movimenti lenti e precisi. Addome contratto e collo rilassato. Vai. Respira quando sali. su, destra, sinistra, vai. Sali, incrocia, vai. 3, 2, 1. Recupera 10 secondi. Respira. 3, 2, 1. Ok. Ora busto sollevato. Mani in appoggio a terra. Le gambe 45 gradi. Sforbiciata e spinta. Schiena ben appoggiata. Vai. Vai. Respira. Vai. Mantieni. Esercizio lento e tecnico. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Addominali in tre tempi. Solleva le spalle. Contrae l'addome e spingi. Vai. Cerca di concentrati sulla contrazione addominale. Vai. Sali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Butta fuori l'aria. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Siamo quasi alla fine. Ora aumentiamo i tempi e riduciamo i recuperi. Respira. Ci giriamo. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Sul fianco. Ponte laterale sinistra. Vai. Fianco destro. Appoggia. Terra. Gambe unite. Gomito a terra. E sali. addome contratto e piccole spinte in alto. Resisti. Mantieni. Mantieni. Piccola spinta. Sali. Mano sul fianco per l'equilibrio. Esercizio tecnico. Lento. Addome in tensione. Resisti. Vai. 10 secondi. Appoggia bene il braccio. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Schiena a terra. E addominali con mano al piede opposto. Vai. Vai. Contrai l'addome e vai in chiusura. 10 secondi. Vai. Vai. 3, 2, 1. Ok. Ponte laterale destra. E spinta. Gomito in appoggio. Gambe tese. E sali col bacino. Vai. Contrai l'addome. Fuori l'aria e sali. Tieni duro. Mantieni. Mantieni. Piccola spinta. Vai. 20 secondi. Mano sul fianco. Contrai l'addome. Appoggia bene il braccio. Respira. Resisti. 10 secondi. Ci siamo. Resisti. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Ancora addominali. Mano al piede opposto. Vai. Sempre 20 secondi. Saliamo. Fuori l'aria quando sali. Schiena bene appoggiata a terra. 10 secondi. Non ti fermare. Mantieni il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Ponte laterale sinistra. Vai. Fianco destro appoggiato a terra. Gambe unite. E gomito a terra. Resta su. E contrai l'addome. Dai che ci siamo. 30 secondi. Mano sul fianco. Appoggia bene il braccio. Addome contratto. Respira. Respira. 20 secondi. Resisti. Non molare. Resisti. 10 secondi. Ci siamo. Mantieni. Mantieni. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Addominali in tre tempi. Schiena bene appoggiata a terra. Sali e spingi. No. Vai. Sali 1. Sali 2. Sali 3. 1, 2, 3. E butta fuori l'aria. Vai. 3, 2, 1. Ponte laterale destro. Fianco posto rispetto a prima. Vai. Contrai l'addome. Fuori l'aria e sali. Mantieni la posizione. Braccio sul fianco. Mantieni la respirazione. Addome contratto. Rimani. Resisti. 15 secondi. Resisti. 10 secondi. Ci siamo. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimi addominali in tre tempi. Altri 20 secondi. Zona lombare sempre. Aderente a terra. Fuori l'aria quando sali. Sali 1, 2, 3. Butta fuori l'aria. 1, 2, 3. Butta fuori l'aria. 3, 2, 1. Recupera. Ci siamo. L'ultimo esercizio. 3, 2, 1. Ok. Gambe a 45 gradi. Spalle sollevate. Spinge sulle braccia. e porti indietro la gamba e il bacino. Addome contratto e ritorna lentamente. Vai. Il movimento discesa è lento e controllato dall'addome. Vai. Espira lentamente durante la discesa. Resisti. Vai. Movimento tecnico. Lento. Controllato. Resisti. Vai. Espira lentamente durante la discesa. Addome contratto. Il movimento di discesa è lento e controllato sull'addome. 10 secondi. Aiutati con le braccia. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Il tuo allenamento sull'addome è terminato. Ci vediamo al prossimo workout. Il movimento di discesa è 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 il movimento di dis